Avrebbe perso il controllo del mezzo per causa ancora da accertare, definito, in ospedale, brutta risavventura ieri sera per un centauro di Casteldisangro, protagonista di un incidente stradale avvenuto all'altezza della rotonda propiscente Il Globo. Dalle prime informazioni l'uomo avrebbe fatto, ruttora solo, fortuna voluto che di lì a poco si è trovata a passare una scorta della polizia penitenziaria che ha prestato i primi soccorsi. I poliziotti penitenziari sono quindi occupati di soccorrere il centauro e di gestire il traffico in un punto nevralgico della viabilità cittadina in attesa dell'arrivo della polizia intervenuta per i rilievi di rito. Il centauro ferito è stato quindi trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118 per tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni non desterebbero preoccupazione, ma il soccorso prestato dagli agenti penitenziari Mauro Nardella, Remo Susco, Deliseo Antonio, Michele Antonilli è risultato utile e tempestivo.